Come farà, come farà, come farà questa società? Come farà, come farà, come farà questa società a vivere, a vivere, a sopravvivere, a sopravvivere, con tutti, con tutti questi problemi, con tutti questi problemi di oggi. Come farà, come farà, come farà questa società? Come farà, come farà, come farà questa società a vivere, con tutti questi problemi, che si presentano oggi, a sopravvivere. I problemi sono andati, i problemi sono andati.